Presentato oggi in conferenza stampa l'evento che riguarda le auto d'epoca del Giro di Sicilia 1948 che domenica mattina, sin dalle 8.30, partirà da Viale della Regione a Serra di Falco per le prime verifiche tecniche e poi alle 10 si sposterà verso San Cataldo. Alle 11 è arrivato davanti a Palazzo delle Spighe e ci sarà poi un primo controllo orario che si ripeterà alle 11.30 a Caltanissetta in Piazza Garibaldi. 25 le auto che andranno alla volta poi del Museo Averna. In conferenza presenti stamani a Palazzo del Carmine i sindaci dei comuni coinvolti e i rappresentanti dell'Associazione Antico Pistone e tutti coloro i quali parteciperanno all'iniziativa che ha natura turistico-culturale e sportiva. Il motosport fa parte delle mie passioni e per cui chiunque organizzi delle cose che riguarda il motosport ha la porta aperta. Il Circo dell'Antico Pistone ha organizzato questa rivoluzione storica nel giro di Sicilia soprattutto nella zona del Nisseno per cui ci saranno le tappe sia a Serra di Falco da San Cataldo che qui a Caltanissetta. Per noi è un'importante, assolutamente un'importante manifestazione alla nostra condivisione e alla nostra partecipazione in prima persona. L'intenzione, spiegano gli organizzatori, è quella di evocare il passaggio del 1948 di rielaborare quel percorso che ricalca in qualche modo quello originale con una particolarità in più. Ad aprire il corteo ci sarà la Smart della Polizia di Stato che fu sequestrata durante un'operazione poi trasformata in auto d'ordinanza e il questore di Caltanissetta Ricifari ha sottolineato quanto il contributo della Polizia di Stato riguardi sia la sicurezza che il rilancio del territorio.